Hola ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale, rieccoci qui di nuovo con SpinTires MudRunner Riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati, dunque ragazzi, allora, nello scorso episodio abbiamo Trasportato ben 4 punti garage, abbiamo anche tolto i punti di occultamento E oggi ragazzi, iniziamo quantomeno ad andare a prendere un po' di legna Dunque, allora, vediamo un attimino, visto che è considerato che siamo praticamente qua Andiamo prima a farci un po' di benzina E poi dopo iniziamo ad andare a prendere un po' di legname Allora, aspetta, tira questo Abbiamo aggiunto ben 113 litri, perfetto Dunque ragazzi, allora, vediamo un attimino Iniziamo quantomeno a mettere i punti per raggiungere la segheria Quindi la stazione dei tronchi Però sto vedendo un attimino da dove andare a passare Perché vedo che praticamente le strade sono un po' così Mi sa tanto che dovrei fare Dovrei fare un giro abnorme Se vorrei arrivare quantomeno tutto vivo Ma secondo me tutto vivo non Non ci arriveri mai Eh, ma che cavolo di strade devo fare? Allora, se me ne vado di qua Anche perché vorrei fare questo tipo di strada Sì, di strada qui Eh, non lo so ragazzi, che dite? Ci vogliamo provare? Ma occhio, madonna mia, però la sterzata è veramente qualcosa di imbarazzante E vediamo un attimino ragazzi se non facciamo troppi danni Se così vogliamo definire danni Ma secondo me Non ce la faremo mai a trasportare questi otto punti Allora, a parte il fatto che già qui Già inizia ad essere un po' più complicato Perché mi sa che se vado troppo indietro C'è il rischio di, ecco Di perdere il Rimorchio Eh, dunque allora Qua c'è acqua Però aspetta Se io quantomeno riesco a costeggiare Vediamo un attimo ragazzi Vediamo un attimo Se Se è cosa Fattibile Oppure no Perché se io riesco ad andare Eh Dove stiamo andando No, 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 no Stiamo praticamente Andando Veramente in posti Molto molto peggiori In posti veramente Molto Eh Cerchiamo di rimanere Più o meno su un lato Ecco già Tipo come Ad esempio qui E niente signori Ci siamo affossati Anche se abbiamo le marce basse Però ce la possiamo fare Allora Se Proviamo ad andare di qua Eh no Lo spazio Praticamente È veramente Pochissimo Allora A parte il fatto che Sto cavolo di cosa Qua dietro È so male E siamo messi male Anche noi signori Guarda qua Allora Aspetta un attimo Vediamo un po' Andiamo costa a costa Allora 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 Aggancio il berricello Qua Inizia a tirarti Tanto Soltanto Soltanto questo pochino E poi dopo L'abbiamo fatto Ok 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 Ottimo Dunque Tiralo Vediamo un po' Dobbiamo andare per forza Di cose di qua Ragazzi Quindi prendiamo questa strada Arriviamo qui Passiamo di qua Passiamo di qua E arriviamo direttamente qui Dove è il coso Eccolo qua Però poi dopo Mi sa che Al ritorno Dovrei trovare una strada Migliore Vai Tira 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 Ok Allora Fin qua ragazzi Ci siamo Adesso cerchiamo di prendere questa Eh vabbè ma a parte il fatto della strada Che praticamente questa non è una strada È praticamente una mezza collina Perché se ci ribaltiamo qua Occhio Piano Piano Almeno diciamo che facciamo un po' più di Attrito Se vado Eh no però Se vado dritto per dritto Non Non ce la farò mai più ad uscire Non ti spezzare Non ti spezzare Non ti spezzare Vai così Vai così Vai così Ok E questa è andata Vai un po' di qua Vai di qua Vai di qua Ok perfetto signori Strada trovata Eh sì Poi dopo al ritorno Ragazzi vediamo un po' di Di fare Un'altra strada Magari Cerchiamo quantomeno anche di passare Verso il Carburante E di fare anche un po' di Carburante Allora Mi sa che Ho sbagliato Dov'è? Mi sa che Là dietro Allora Cerchiamo di far manovra Questo coso poi A far manovra E' una cosa Abbastanza difficile Occhio Piano Ore Ottimo Allora Già abbiamo consumato Una marea di carburante Perché Secondo me Questo qui Diciamo che Consuma veramente Tanto Di Di carburante Allora Cerca di andare un po' qui Dove è più asciutto Allora Stazione dei tronchi Eccola qui Dunque Tira Abbiamo Il Quattro punti Ole No Signori Facciamoci il Segno della croce E damo Se Iniziamo prima A segnarci La strada Allora Stazione dei tronchi Stazione Di rifornimento Praticamente Io la devo portare Alla Alla Segheria Qui Però Come detto ragazzi Non vorrei fare Quella strada A meno che Non Non proviamo a fare Questa di strada Oddio Non che sia così Tanto Tanto buona Come strada Però Anzi no Aspetta Andiamo di qua Andiamo di qua Ok Ah Cavolo Qua sono praticamente Otto punti Sono praticamente Otto punti Ragazzi Quindi secondo me Quello da Quattro Più Più Sei Secondo me Andava bene Però Quello da Quattro Più sei Secondo me È troppo lungo Occhio Piano Ora vi voglio Qui Sarà Una cosa Veramente Troppo Ingiusta Ingiusta Perché Come detto È È tanto difficile Qua adesso Inizia a mettere Marce più corte Allora Con le marce corte Ragazzi Si vede che Praticamente Arriva quasi a 20 litri Al minuto Però Ragazzi Le marce basse Servono 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 veramente Tanto Come detto Bisogna Andare calmi Quieti Perché Sennò Puoi Se alla fine Non Non arriviamo Scusa Scusa Il segnalino Qui Qui La strada C'è Meglio Così Allora Aspetta Un attimo Se proviamo A seguire La strada Arriviamo Da un'altra Parte Però Possiamo pure Andare di qua Da dove ho segnato Io la strada Perché Vedo che Non è tanto Eccala E niente Signori Ci siamo Impantanati Malamente Dai Vai Vai E che cos'è Allora Aspetta Aggancio il vericello Magari questo qua Dietro Allora Cerco di andare Un po' più in qua Cacchio No E niente Ragazzi Mi sa tanto Che Ho praticamente Sbagliato A fare Sta strada Qua Occhio Piano Mettiamo Marce basse Scusa Aspetta Ma Vai di qua Che Vedo che Ci sto Un pochettino Di strada Ma come Si è fatta A staccare Il carico Oh Santo Iddio Ok Ragazzi Allora Sono dovuto Ritornare Per forza Di cose Indietro Perché Come avete Ben visto Praticamente Mi sono Cioè Non mi sono Neanche Cappottato È solo Che ha perso Il carico Non ho capito Per quale motivo Forse evidentemente Si era Sganciato Sicuramente Forse Si Comunque Cerchiamo Di Recuperare Che vede Vedi Allora Qual è il problema Ok E niente Ragazzi Dammo Se un'altra volta Che vedevo Di A parte Il fatto Che se Mo Passo Allo Giorno Dopo Mi Consuma Un sacco Di Dunque Ragazzi Allora Vediamo Un attimino Ma Se io Veramente Vado Di Qua Allora Se provo Ad andare Di qua Eh 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 ma Poi Dopo Mi sa Che Strade Migliori Dobbiamo Andare Di qua Buttarci Di qua E Non lo so Ragazzi Proviamo A fare Questa 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 Qua Anche Perché Comunque Come detto Carburante Non ne abbiamo Più Quindi Provo Ragazzi A fare Quella Strada Perché Pure Sto Cavolo Di Mudrunner È Veramente Molto Molto Difficile Allora Teniamo Una marcia Bassa Anche Perché Comunque Se mi Tengo Abbastanza Lontano Dai Pendi Forse Forse È meglio Vediamo Un po Dove Dove È più Comodo Girare Verso Destra Allora Inizio A girare Adesso Piano 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 Allora Già Si iniziano A intravedere Rocce E Quant'altro Piano Allora Non che Questa strada Mi piaccia Però Dobbiamo Pur arrivare A sta Capolo Di Segheria No Ok Allora Fin qua Ci siamo Ok Ottimo Vediamo Un po Anche Perché Comunque Qui Un po Di Strada C'è Allora Vediamo Un attimino Di qua Si ragazzi Mi sa Tanto Che dobbiamo Andare Per forza Di cose Di qua E Poi Dopo Aspetta Ho Sbagliato Ok Ma L'entrata Oddio Forse Magari L'entrata Ok L'entrata Praticamente Quella Quindi Niente Ragazzi Oggi Va così Questo Questo Carico Va così No 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 Piano Piano Dove ci stiamo andando Ad infrociare Oh maronne Oh maronne Mettila un po' più Lenta Anzi Un po' più alta No 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 Piano Piano Allora A parte il fatto che Quamo E Praticamente Tutta Acqua Se vado Di qua Praticamente Acqua Non ce n'è Proviamo ad andare Di qua Va Allora Abbassalo un po' Ok ragazzi Allora Credo che Ce la faremo Con questo Carico di benzina Anche perché Comunque Credo che Non è rimasta Neanche Troppa strada Mettiamo Una marcia Un po' più Bassa Ah cavolo Aspetta Come C'è Ah Benzina Ragazzi Sta Praticamente Finendo Quindi Madonna Ragazzi Madonna Mo' Si rimango Si rimango Incastrato Qua Bestemmio Reggio Guitto E me ne vado Anzi All'anno nuovo Non si bestemmia Dai Che ce la possiamo Fare Ma pure Con il carico O meglio Con sto poco Di benzina Mi sa Tanto Che No 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 Pucciali Pucciali Piano Giovano Piano Piano Madonna I rischi Madonna I rischi Signore Aspetta No Aspetta Non girare Adesso Non girare Adesso Adesso Inizia A girare Ok Ok Madonna Mia ragazzi I rischi Aumentano un po' Tanto Siamo quasi arrivati Poi dopo magari Off camera Posso andare a prendermi Io il camion Con una cisterna Ritorno qui Faccio Rifornimento E ritorniamo Insieme indietro Piano Là dietro Piano Ok Ok Ragazzi Allora Siamo Praticamente Arrivati No 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 Piano Aste rocce Madonna Mia Ragazzi E' stato Veramente Un cavolo Di parto Allora Aspetta Fai cadere No Scarica Oh Quattro punti Signori Li abbiamo Trasportati Allora Spegni Tutto Avanzato Ferma E va bene Ragazzi Allora io direi che per questo nuovo episodio Della serie di Mudrunner E' tutto Mi raccomando Fatemi sapere anche La vostra qui sotto qui Nei commenti Di cosa ne pensate E mi raccomando Lasciate un like Condividete Condividete questo video E noi ci becchiamo In un prossimo episodio Ciao a tutti ragazzi E E Grazie a tutti.